Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Ragazzi, chi scegliamo? Chi scegliamo ragazzi? Difficile scegliere, impossibile scegliere, impossibile scegliere. Sono qui in mezzo a due leggende, sono in mezzo a due persone che hanno fatto sì che il sottoscritto diventasse rosso-nero a vita, rosso-nero nel sangue, rosso-nero proprio nel DNA, proprio quando ti ho tagliato, io ho il suo DNA, tu ti attaccogliati, io il rosso donnava nel merda o altro, sono un gatto netto che non lo capisci, ma ma ma, Marco Van Basten e Franco Baresi, Marco Van Basten e Franco Baresi, una delle tante coppie dei campioni che voi altri non non vincerete, manca c'è vita cambia, c'è un guam dan di chiù, toto, toto traccio po' di carnaval, carnaval, visto che siamo in tema, carnaval. Allora ragazzi, oggi vi voglio parlare di tre cose, prima di buttarci, prima di buttarci capo vitto, anima e corpo, nella partita contro il Tottenham, oggi che è domenica e la nostra partita l'abbiamo fatta venerdì, vi voglio parlare di Rafa Leao, quel che concerne il rinnovo di Rafa Leao, ve ne parlo subito e vi dico la mia. vi voglio parlare velocemente della coppa intercontinentale, vecchia coppa intercontinentale diventata, ahimè, mondiale per club, vinta da Carlo Ancelotti, a cui vanno i nostri ovviamente complimenti perché Carlo resterà sempre un pezzo di cuore. e che altro voglio parlare di Frank che sì, dolcis in fondo di Frank che sì. Inizierei, inizierei perché prima le cose belle, brevi, veloci e poi entriamo nel discorso Rafa Leao. Allora, per quanto riguarda il discorso coppa intercontinentale, io voglio capire ma questo mondiale per club è un fallimento a 360 gradi, ormai penso che sia una cosa abbastanza evidente. Dobbiamo renderci conto che a volte non dobbiamo necessariamente guadagnare, fare più partite possibili per fare più soldi, per avere più sponsor, più introiti, più questo e più quest'altro. Si parla spesso anche di qualità di partite, si parla spesso anche dei giocatori della salute, dei giocatori che in effetti fanno 50-60 partite all'anno. E quindi ragazzi, il mondiale per club, ma mi dite con tutto il rispetto che cosa significa vedere una finale Real Madrid-Al-Illal. Ragazzi, il Real Madrid contro l'Al-Illal non sarebbe una partita nemmeno di Serie C spagnola. Cioè ragazzi, abbiate pazienza, ok? Il calcio è del mondo, del popolo, tutto ciò che vogliamo, ma poi arriva un certo punto che la migliore squadra europea incontra la migliore squadra sudamericana, perché da sempre i migliori giocatori, le migliori squadre stanno in Europa e in Sud America. Abbiate pazienza, voi dell'Asia, voi dell'Africa, io capisco tutto, però una finale di Coppa Intercontinentale di una volta, che ti dovevi svegliare alle tre di notte, la partita direttamente giocata a Tokyo o a Yokohama, in zone ovviamente, diciamo, a metà della distanza tra Europa e Sud America, se andava a giocare lì ti dovevi svegliare di notte, bella con la tromba inza le arrecchie del cinese, del giappone, tutta la partita, queste inquadrature che parevano venire dalla luna e non dal resto del mondo. Una roba bellissima, giocare contro una squadra sudamericana che di solito era argentina, oppure brasiliana, a volte colombiana. Cioè, ragazzi, quella è una partita secca dove ti giochi tutto, dove tutto può succedere. C'è io, questo mondiale per il club, questa squadra, la terza categoria, ragazzi. Finale di Coppa Intercontinentale, Real Madrid, al 5 a 2, 5 a 3. Ma che roba è? Ma facciamo un passo indietro, cerchiamo di rendere le cose più belle, più... ragazzi, cerchiamo... ma voi non so se avete... io sono legato a dei ricordi indimenticabili. Io mi ricordo ancora il giorno, io mi ricordo ancora il giorno che praticamente ero un bambino, mi svegliai perché evidentemente sentì qualche parola di troppo di mio padre dalla cucina, che ovviamente cercò di fare silenzio visto l'orario, ma evidentemente dopo 120 minuti di partita, al gol di Chico Evani, evidentemente forse esplose, io mi svegliai, andai in cucina e mio padre mi mise vicino e disse «Assit, Andrì, assit, come on ma se niente!» Erano all'incirca le 5, le 4 e mezza, non ricordo esattamente che ora potessero essere. Certo è che il Milan era appena passato in vantaggio con Alberigo Evani, ok? Con Chico Evani, dopo una partita interminabile, infinita, vinta contro il National di Medellin, se non ricordo male, 1-0, Ighita in porta, cioè questi sono i ricordi, ok? Nessuno mai si ricorderà della partita del Real Madrid contro l'Alilal, ragazzi, il calcio è emozione, rendiamoci conto di questo, non è solamente giro di soldi, a volte bisogna fermarsi e fare un passo indietro. Volevo essere un pochino più breve però mi ha venuto in mente questo ricordo stupendo di mio padre, che saluto. Poi, ragazzi, poi, che altro dire? Dovevo parlare di Frank Casey, leggevo oggi per l'ennesima volta Frank Casey associato all'Inter. Ragazzi, io vi dico, mettetevi l'anima in pace, quello all'Inter ci finirà e sinceramente non me ne frega un beato minchia, non mi fate essere, non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo e sapete perché? Perché noi gente di questa specie possiamo farne a meno, anche se il calciatore ci manca, non l'abbiamo sostituito, ma questo è un altro problema, è un'altra storia. La persona, Frank Casey, può andare dove gli pare e gli piace e state ben sicuri che quello andrà a finire all'Inter perché di là c'hanno Marotta che fa acquisti solo ed esclusivamente prestiti in questo modo di ritmo riscatto, di qua, di là. Vediamo quest'anno cosa succede, poi l'anno prossimo vediamo se lo possiamo riscaldare oppure no, ci sono fra l'importante che adesso lo prendiamo, questo è il ragionamento e poi va su tutti e dico tutti i giocatori a zero, a scadenza si fa una valutazione, il 99,9,9% i giocatori li prendono perché non avendo un becco di centesimo tutti quelli a zero, li strapagano, gli ingaggi che non ha capito, non so come fanno con tutti i debiti che hanno, con Zhang che avevano in seguito dalla Bang e tutto il resto, però accattano i squadri, accattano, prendono i giocatori in questa maniera qua e poi vanno avanti, vanno avanti in questa maniera qua. Quindi mettetevi l'anima in bacia che quello andrà all'Inter, ve lo dico già io, garantito. E adesso entriamo col discorso Raffaleau, otto minuti e mezzo, spero di in tre minuti di chiudere il discorso. Raffaleau. Allora, questa volta io di solito me la son presa con Donnarumma quando è andato via, me la son presa con Cialanoglu quando è andato via, me la son presa anche con Chessi. Questa volta io non me la prenderò col giocatore. E adesso vi spiego perché. Me la prenderò solo ed esclusivamente con la proprietà. Non con la dirigenza, né con l'allenatore, né con leao. Me la prenderò con la proprietà. Con la proprietà. Al giocatore non dirò A. Perché se noi AC Milan, campioni d'Italia in carica, non siamo capaci di accontentare un giocatore che in questo momento è stato il migliore dell'anno scorso, è stato il migliore, l'MVP di tutto il campionato italiano. Giocatore che fa la differenza ad occhio nudo, a vista d'occhio, lo sanno tutti. Giocatore imprescindibile perché noi abbiamo un gioco che praticamente se Raffaleau si addormenta noi diventiamo monotematici. Tu non riesci a dargli uno stipendio che lui sta chiedendo. Se noi non vogliamo pagare questi 7 milioni, questi 7 milioni e mezzo, questi 7 milioni più bonus. Non lo so che altro dobbiamo arrivare, arriviamo a 8 eccetera eccetera. Ad un giocatore come Raffaleau. Allora ragazzi, prendiamo, ve lo dico per l'ennesima volta, prendete questa proprietà e andatevene. Perché se non riusciamo a pagare il migliore della rosa, se non riusciamo a trattenere un ragazzo giovanissimo che ha davanti a sé 10 anni di carriera da numero 1, che deve ancora dimostrare, deve ancora far vedere tutto il suo potenziale. Allora ragazzi, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. E se ne fate un discorso solo ed esclusivamente economico di sostenibilità. Il giocatore ce lo teniamo e prendiamo qualcun altro che invece magari non gli vale quei soldi, non vale un milione, non vale due milioni, non vale un milione e mezzo che gli diamo eccetera eccetera. Si prendono questi giocatori, si fa meno di quei giocatori, ma lui glieli dà i quei soldi. Se dobbiamo fare il bilancino, cerchiamo di mettere Raffaleau sulla bilancia e dall'altra parte, se non siamo capaci di tenere tutta la rosa con questa cifra, prendiamo qualcuno e mandiamolo via. Se abbiamo un budget che non dobbiamo sforare, un monte in gaggi che non dobbiamo sforare, noi a Raffaleau gli diamo quei soldi in più e gli togliamo da qualcuno che non serve. Semplicemente questo. Ma fare a meno di Raffaleau per l'ennesima volta, dopo aver visto andare via fior fior di giocatori, questo sarebbe inaccettabile e ve lo dico per l'ennesima volta, questa volta il giocatore non c'entra niente perché lui merita quei soldi, potrebbe prenderli dove vuole, ne potrebbe prendere molti di più dove vuole, quindi se vogliamo che resti a Milano, dategli i soldi, pagatelo perché merita questi soldi qua. Non vi state adesso a guardare le ultime prestazioni di qua di là perché se vediamo le prestazioni dei singoli nelle ultime partite, allora facciamo 25 giocatori, facciamo un falso e lo buttiamo a mare. Quindi non è in questo momento che va valutato il giocatore. Il giocatore vale, l'abbiamo visto, è devastante, è immarcabile, deve ancora crescere, quindi immaginate dove può arrivare, ok? Quindi cerchiamo di tenerlo perché altrimenti non sento ragioni, questa volta non sento ragioni, ok? E questo è quanto ragazzi, non vi rubo altro tempo oggi, vi auguro una buona domenica, vi auguro una buona serata, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete, abbonatevi, tasto grazie, forza lotta e vincerai, non ti lasceremo mai e poi vi dico ciao, buongiorno, a dopo.